Siamo nel medioevo, un re parte per le crociate, però prima di partire fa costruire una cintura di castità per mettere la moglie per paura che lo tradisce. Insomma, gli fa costruire tutta un fabbro fortissimo, sta cintura di castità che se però aveva scopato la moglie ti strappava il pisello. Insomma, passano dieci anni di crociate, dopo dieci anni il re torna tutto, Fudelo Solenne ha vinto tutto, che fa come prima cosa, fa schiera a tutti quelli del castello fuori al castello col pisello di fuori, per vedere chi ci ha provato con la moglie. Insomma, capirei, passate al primo senza pisello, perfetto, ammazzatelo, tagliate la testa e lo fa levare, e il secondo uguale, senza pisello, impalatelo, e il terzo senza pisello pure quello, bruciatelo e vai via avanti così per tutti quelli del palazzo, fino a che all'ultimo vede uno tutto fiero diritto a me, col pisello di fuori tutto intatto. Allora gli fa così, perfetto, tu sì che sei uno fedele, ti nomino immediatamente capo delle guardie, come te chiami soldato? E quello...